Lei non sarà? È quello? Me l'ha lasciato nel testamento, mica potevo farla rugginire. Vecchio furbacchione, anche da morto ha fatto in modo che mi ci applicassi. Beh, non sarà la stessa cosa, ma sarò contento di risentirlo. Ok. Che cosa conosci? Beh, ho appena studiato di Rodrigo il concerto di Aranquess. Che cosa? Quello che chiami l'aranciata. Ah, sì. Ho ancora qualche incertezza. Non ti preoccupare, tesoro. L'incertezza è la norma per questi qua. Paul, la musica. Ernie, prendile un leggio. Ok, allora. Bene. Grazie. Ci siamo, tutti quanti? Andy, sei dei nostri? Povero cocco. Sempre con la testa alla miniera. Allora, ragazzi. Di Rodrigo il concerto dell'aranciata. Uno, due, tre, quattro. Oah. Right. Di con la testa alla miniera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.